Abbiamo voluto dotare l'Abruzzo di un nuovo dispositivo per quanto riguarda i grandi detenuti in quanto non c'era mai una piena garanzia di reggibilità, in quanto serviva una maggioranza un po' più ampia di quella semplice, quindi due terzi. Abbiamo paragonato il sistema di eleggibilità del garante detenuti a quello del difensore civico regionale, quindi dopo la terza votazione basterà la maggioranza semplice, questo per garantire anche nelle carceri il fatto che ci sia un supervisore che dia garanzia dei diritti degli stessi, quindi è su questo un grande risultato che darà sicuramente la sicurezza all'Abruzzo che è l'ultima regione a non avere il grande detenuti di avere questa importante figura. Infatti mancava da tempo e poi c'erano state diverse possibilità di elezione e di nomina, si era anche parlato di Rita Bernardini, nessuno si era mai messo d'accordo sul suo nome, ma adesso in tempi pratici che succederà? Succederà appunto che si procederà con delle votazioni che arriveranno al massimo al numero di tre volte per poi procedere con questo nuovo sistema dove basterà la maggioranza del 50 più 1, quindi di conseguenza capite bene che basterà la maggioranza che è uscita dalle urne per poter eleggere il garante. C'era stata sicuramente una discussione molto fitta attorno a Rita Bernardini, attorno a un mondo che era quello radicale, noi non è che siamo tanto interessati al nome, che sicuramente un nome la maggioranza ce lo ha e ce lo deve avere, siamo interessati più che altro a dare la possibilità di garantire ai detenuti una figura che sia a loro tutela e faccia da advisor per tutte le situazioni che oggi purtroppo sono tristemente noti. Oltre a Rita Bernardini qual è un nome spendibile? Ce ne sono diversi che hanno appunto fatto istanza e quindi penso che poi questa discussione tornerà ad essere attuale in quando andrà rifatto il bando visto che sono cambiati i sistemi elettorali e quindi vedremo le nuove richieste che arriveranno e poi si deciderà. Entro il 2017? Io penso che ce la possiamo fare perché ragionevolmente con i tempi dovremmo esserci.